Il saluto più cordiale a voi tutti, sintonizzati su Young TV, stadio Marco Mazzucchi di Ardea, ore 16.30 e dintorni squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento, sulla sinistra dei vostri teleschermi gli ospiti della Pro Roma in maglia rossa. Sulla destra i padroni di casa del team Nuova Florida. Le formazioni in campo sono le seguenti. Ospiti. In campo con Colantoni, Albanese e Mannarelli, Cesaretti, D'Alonzo, Svezia, Corigliano, Palmigiani, Accarachi, Sette e Sola. Il tecnico è il signor Alessandro Lamiani che è in panchina, K, Pagani, Furghieri, Coluzza, Panetta, Musumeci e Salis. Padroni di casa che rispondono con Piccheri, Lauri, Moriconi, Petricca, Nunzi e Ponziani, Vona, Mancini, Mariani, Matteo, Troccoli e Di Bari. A disposizione del tecnico signor Andrea Bussone, Orlandi, Schiumarini, Giacoglia, Princigalli, Mirco Troccoli, Tubani e Piccini. La parte buona, cross a centro area e c'è la deviazione di Petricca. Petricca che colloca il pallone in fondo al sacco. gol al decimo del primo tempo dunque di Petricca, un uomo che ogni volta che scende è sempre pericolosissimo normalmente del primo tempo. Ricordiamo 1-0 per il team Nuovo Florida al decimo minuto, gol di Petricca, lancio in profondità per Mariani. pallone a centro per Troccoli, da Troccoli su Mariani, Mariani, cross a conclusione di Vona. Pallone questa volta più lungo, testa di Petricca, Vona, Vona, di Bari, di Bari, e c'è il secondo gol, secondo gol di Matteo Troccoli, ottima questa azione di Di Bari che ha finalizzato per Matteo Troccoli che di destro ha tirato fuori il classico tiro imparabile sotto il sette con palla che ha toccato anche l'incrocio dei pali prima di depositarsi in fondo al sacco. la laurea indietro per Di Bari, Di Bari Mancini. Troccoli si libera Troccoli e poi c'è il terzo gol, terzo gol di Mariani. 45, 45! e mette una seria ipoteca sul match a questo punto, il terzo gol di Mariani. Da Accrachi, rilancio lungo di Petricca sulla destra, è arrivato di Bari, di Bari che è entrato in area di rigore e è andato poi a cercare il cross, ancora un pallone rimpallato e poi c'è il quarto gol. È Vona che ha depositato in fondo al sacco in seguito ad una meschia con parata corta di Colantoni e palla spedita poi in fondo alla rete appunto da Vona. Ed è ripartito dunque Cesaretti con lancio in profondità adesso per Corigliano Corigliano che va a depositare in fondo alla rete in costudita. Il gol dell'uno a quattro è uscito Piccheri, dribbling di Corigliano che poi dopo aver evitato l'uscita di Piccheri ha depositato in rete a porta sguarnita di Bari su Mariani, ancora di Bari. Pallone indietro per Nunzi, non si carica il destro, centrale, conclusione, parata. Cross di Lauri e c'è una conclusione di Mariani a botta sicura con un salvataggio sulla linea per la squadra di casa con Matteo Troccoli e c'è il colpo di testa di Piccini. Matteo Troccoli in profondità, Piccini anticipato per un attimo ma c'è poi Mariani, Mariani, Mariani che poi ha tirato un pallone respinto con i piedi, atterra Piccini. Da Piccini sulla destra per Matteo Troccoli, Matteo Troccoli su Di Bari, Di Bari. Da Tubani ancora su Mancini, ancora su Tubani, Tubani che va ancora a assaggiare il valore del numero uno Colantoni. E di questo istante il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Finale qui al Marco Mazzucchi, team nuovo Florida 4, Pro Roma 1. Al termine del match siamo in compagnia dei due mister Andrea Bussone per i locali e Alessandro Damiani per gli ospiti. Risultato finale 4 a 1 e diciamo spida che continua caro Andrea. Ormai è un motivo dominante, la Cavese gioca la mattina e vince e vi sorpassa. Il pomeriggio gioca Nuovo Florida e c'è il controsorpasso. Due gare al termine, che cosa ci dice mister Andrea Bussone? Dico sempre, ragioniamo una partita alla volta, adesso soltanto al Torrenova e poi andiamo avanti. Oggi abbiamo affrontato il Pro Roma, è vero il risultato è 4 a 1, però il Pro Roma vero l'abbiamo affrontato all'andata, ci ha messo seriamente in difficoltà. Questa è una squadra che ha già fatto bene e ovviamente hanno meno motivazioni di noi, avevano oggi solo quello che ha fatto la differenza. Per quanto riguarda l'impegno di domenica prossima, due match probanti contro due che sono adagiate sul fondo classifica. Torrenova, Nuova Florida, Morena, Cavese. Praticamente insomma per vincere il campionato Andrea in queste due gare devi portare via 6 punti. Ecco sì, lo sapevamo, bisogna fare 87 punti e vincere il campionato e proveremo a farli. Adesso sentiamo il commento di Alessandro Damiani, appunto proprio lo portiamo su questo discorso. Mister, secondo lei chi lo vincerà questo campionato? Chi fa più punti? La risposta è molto molto diplomatica. Diciamo però che cosa prevede questi due incontri? Dunque la Nuova Florida giocherà domenica contro il Torrenova e l'ultima... Come adesso? Le due squadre che faranno 6 punti in questi due incontri. Perché sono due squadre secondo me superiori alle altre, sono attrezzate meglio, hanno un buon gioco, hanno una buona qualità e hanno tutte e due le caratteristiche per vincere questo campionato. La team secondo me è stata più forte. È la squadra che mi ha impressionato di più insieme al Sermoneta. La Cavesa è una grossissima squadra, però loro è più difficile da battere. È una squadra con più qualità. Mister, parliamo adesso invece della sua squadra, della Pro Roma. Ad un certo punto siete stati in lotta anche voi per un risultato di prestigio. Quel quarto posto che potrebbe essere molto utile per la disputa di un eventuale playoff. Che cosa è mancato alla sua squadra per toccare quel traguardo? Soprattutto tanti infortuni. Tantissimi infortuni. Poi abbiamo scelto da dicembre una politica molto giovane. Se voi andate a vedere le liste, noi giochiamo sempre con 6, 7 fuori quota a partita, proprio per farli crescere. Tutto il giro di ritorno praticamente l'abbiamo fatto sfruttando e cercando di valorizzare i nostri ragazzi. Quello è un obiettivo che ci siamo posti con la società. Abbiamo fatto questo genere di discorso e chiaramente paghi sotto alcuni aspetti li paghi, però alla fine stiamo cercando di far crescere questi ragazzi con le loro caratteristiche, perché poi ci sono giocatori che hanno buone qualità, però chiaramente devono maturare. Benissimo mister. Discorso personale e chiudiamo. Alessandro Damiani resterà sulla macchina della Pro Roma o magari ci sono altre prospettive? Questo non lo so, non sta a me giudicarlo. Io ho fatto lo zingolo per una vita, quindi voglio dire, tra qui a Abruzzo, fuori, quindi non so bene con le succede domani. Io sto stato benissimo, sto benissimo alla Pro Roma, però chiaramente poi dopo bisogna vedere i programmi della società e i miei programmi si coincidono. Benissimo mister. La stessa domanda non la faccio ad Andrea Bussone, perché se vincerà il campionato lo inchiodano sulla panchina, se non lo vince lo mandano via. Ma non credo, anche perché non si può giudicare un allenatore, cioè io guardo sempre a 360 gradi la cosa. Io penso che il mister abbia fatto un grossissimo campionato, va dato merito di questo. Adesso posso dire la mia, adesso solo i giocatori possono perdere il campionato. Basta, punto. Benissimo mister. Grazie mister. Grazie, grazie, è tutto.